A Casarano i carabinieri hanno portato a termine una vasta operazione antidroga arrestando 13 presunti appartenenti a due sodalizi criminali, tra di loro in contrapposizione e dediti al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare l'indagine, diretta dalla procura distrettuale antimafia di Lecce, conta complessivamente 43 indagati e ha consentito nel corso del suo sviluppo di arrestare in flagranza 16 persone per spaccio e di sequestrare complessivamente 9 kg di sostanza stupefacente.